E' stata finalizzata l'individuazione di più stretti rapporti commerciali tra la provincia di Teramo e l'Ucraina la visita dell'ambasciatore plenipotenziario in Italia del paese dell'est Europa, Yeugen Perelijin, ospite nel capoluogo dell'associazione Italia-Ucraina con il supporto della Camera di Commercio di Teramo. Siamo venuti qui con l'obiettivo di trovare strumenti e meccanismi migliori per estendere la nostra cooperazione in vari settori, nel settore del commercio, nel settore della cultura, educazione e io sono sicuro che dopo questo evento di oggi noi possiamo trovare questi meccanismi. Perelijin ha parlato a una platea di imprenditori e autorità politiche istituzionali nel Terramano invitando tutti a un nuovo rapporto di interscambio che sfrutti l'enorme potenziale in diversi settori della vita sociale. Principalmente nel settore di abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore della industria meccanica e della industria elettronica. Anche oggi ho incontrato il presidente dell'associazione di artesania locale e penso che con questa successione anche possiamo sviluppare rapporti fruttuosi. L'incontro rappresenta il secondo appuntamento dell'iniziativa denominata Teramo Incontra, promossa con l'obiettivo di presentare e far conoscere Teramo e l'Abruzzo oltre i confini regionali e nazionali. Questo è un momento difficile per l'Europa, per l'Italia e anche per la nostra provincia, però noi abbiamo molte potenzialità che non sono a tutt'oggi completamente espresse. Con l'Ucraina ci sono già dei rapporti che possono essere migliorati e intensificati. L'appuntamento di oggi vuole essere un'occasione proprio per le nostre imprese per approfondire questi rapporti, questa conoscenza in prospettiva di un allargamento delle loro quote di mercato in cui il paese.